Il voto favorevole e all'unanimità da parte del Consiglio sulla mozione che impegna il Governo regionale a istituire i parchi marini regionali permetterà alla Regione Puglia di dotarsi di uno strumento di gestione più flessibile rispetto alle aree marine protette che richiedono un lungo e complesso iter istitutivo. Lo dichiara, senza nascondere soddisfazione, il consigliere del Movimento 5 Stelle, Cristian Casili, che aveva presentato in Consiglio regionale la mozione che impegna la Giunta Emiliano a istituire i parchi marini regionali. Con l'istituzione dei parchi marini, prosegue il consigliere del Movimento 5 Stelle, verranno promosse le attività economiche compatibili con la tutela del mare, quali il pescaturismo, le visite guidate, il sea watching, le attività dei centri di immersione, i campi di ormeggio per il diporto. Non solo, queste aree di salvaguardia, tutela e valorizzazione dei nostri tratti di mare consentirebbero il recupero di specie marine minacciate, la difesa dell'erosione costiera, la pulizia dei fondali e depurazione delle acque, l'installazione di strutture antistrascico e la promozione di forme di pesca selettiva.